Ed eccoci ritornati in diretta, dunque come promesso adesso è il momento di accogliere la nostra prima ospite di giornata. Voglio dare subito il benvenuto, il bentrovato e ringraziare la dottoressa Valentina Turco, psicologa e psicomotricista funzionale. Grazie per aver accettato il nostro invito, buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti, grazie a voi, sono Valentina Turco, psicologa e psicomotricista. Allora Valentina, con te parleremo di un tema molto sentito, come dicevamo anche in apertura, perché sono tante le nostre amiche, telespettatrici, nonne, mamme di famiglia, che non sanno tra virgolette come gestire i loro bambini in questo periodo così denso di cambiamenti che è la primavera. E allora questa mattina, grazie al tuo aiuto, vogliamo dare alcune linee guida importanti, visto che si sta avvicinando anche la fine dell'anno scolastico e gli impegni in calza. Allora, la primavera è il periodo, potremmo dire, in cui i bambini, ma più in generale tutti quanti noi rifioriamo dopo i grigi mesi invernali. Ti chiederei subito come approcciare questo periodo che è così denso di cambiamenti ed è anche un periodo di nuove scoperte. Sì, allora, sicuramente in questo periodo è molto importante, dopo come hai detto tu, i grigi mesi invernali, portare i nostri bambini a respirare un po' d'aria. Quindi sicuramente favorire delle attività di movimento, possibilmente al parco, in ambienti aperti e favorire anche il contatto con la natura. Proprio perché la primavera è il momento in cui la natura rifiorisce, sbocciano appunto i fiori, gli alberi cambiano appunto colore. E quindi è un importante momento anche di esplorazione sensoriale per i bambini. Quindi semplicemente portarli a fare una passeggiata al parco oppure favorire attività proprio di movimento al parco. Quindi corsa, salti, gioco libero e in questa fase della loro vita sicuramente molto molto importante. Proprio perché i bambini, non dimentichiamoci, che passano tante ore seduti a scuola dove appunto l'attività di movimento è limitata. Quindi è necessario subito dopo, quando i bambini tornano a casa, dare loro un momento per poter favorire un'attività di movimento. Così da poter, come dire, proporzionare l'attività statica che poi hanno avuto durante le ore scolastiche. Quindi i bambini restano a scuola, i bambini nelle scuole elementari immagino seduti dalle 5 alle 6 ore nei banchi. Quindi sarebbe forse bello anche poterlo favorire durante le ore scolastiche. Sì, questo sicuramente. Infatti l'indicazione che ad esempio io do sempre alle insegnanti è anche proprio di far fare delle passeggiate nel cortile, fuori la scuola. Perché è importante far respirare loro anche semplicemente 5 minuti di aria e quindi cambiare ambiente e poter favorire così poi successivamente un nuovo apprendimento con un nuovo stato d'animo. Certo. Parlavi Valentina di incentivare il movimento all'aperto, le esplorazioni sensoriali, si parlava appunto della bella stagione che è già arrivata, quindi i bambini devono stare più a contatto con la natura. Quanto è importante il rapporto con il creato, con quello che vedono anche nelle varie fasi della crescita dei più piccoli? Certo. Allora, sicuramente la natura è uno strumento gratuito e sempre a disposizione che l'essere umano ha per, come dire, sviluppare il proprio essere e favorire sempre momenti di rinascita e di crescita interiore. Infatti la natura offre tutta una serie di esplorazioni sensoriali importanti, cioè il bambino attraverso la natura sviluppa proprio 5 sensi. Quindi l'udito perché ascolta i suoni della natura, il tatto perché può raccogliere e toccare tutti gli elementi della natura. Quindi è importantissimo, ad esempio, per i bambini sporcarsi, giocare con la terra, giocare con la sabbia bagnata. La vista, perché la natura ci offre degli spettacoli meravigliosi, così anche semplicemente guardare i colori dei fiori per i bambini e toccare, ad esempio, i petali, staccarli. Sono tutte esplorazioni sensoriali che favoriscono uno sviluppo dei 5 sensi e anche una conoscenza attraverso proprio la sensorialità. A questo poi segue l'integrazione sensoriale, quindi imparare a mettere insieme tutti questi stimoli provenienti dai vari sensi e quindi avere una rappresentazione mentale del nostro creato. Quindi attraverso un'esperienza diretta il bambino poi costruisce una rappresentazione mentale di quello che ha vissuto. E quindi successivamente potrà rappresentare proprio attraverso un disegno o comunque l'emozione che è passata attraverso l'esperienza entra nella memoria del bambino, quindi lascia una traccia amnestica e il bambino se lo ricorderà sempre. Non è un caso infatti che nelle nostre città si stia incentivando sempre di più la creazione di aree verdi o comunque di spazi legati proprio ai bambini in maniera tale da incentivare proprio questo contatto con la natura che è fondamentale da quanto abbiamo capito per lo sviluppo cognitivo, comportamentale e anche direi fisico dei nostri bambini. Ecco allora perché deve essere incentivato sempre di più nelle fasi della crescita e magari anche uno sprone per chi in qualche maniera prende le decisioni a mettere al primo posto questo tipo di caratteristiche nelle nostre città? Perché attraverso l'esperienza diretta quindi soltanto attraverso un'esperienza diretta di conoscenza ad esempio quindi portare i bambini al parco, portare i bambini nel bosco, portare i bambini a fare giardinaggio oppure promuovere attività di coltivazione ad esempio del piccolo orto. Quindi come dire aiutare il bambino a avere un'idea di quella che è la crescita di una pianta solo attraverso un'esperienza diretta si ha un apprendimento diretto quindi si costruisce come abbiamo detto una rappresentazione mentale della diciamo della propria realtà e solo così ci può essere un apprendimento positivo. Quindi la natura come abbiamo detto ci offre tantissimi stimoli e sono soprattutto stimoli come dico io gratuiti e sempre fruibili quindi anche nella stagione invernale possiamo portare i bambini a osservare appunto o nella stagione autunnale a osservare la bellezza del creato quindi la bellezza del paesaggio. Come cambia il colore delle foglie, come appunto cambia anche semplicemente il cielo quando inizia a nevicare oppure quando magari c'è una giornata di pioggia. Quindi offrire al bambino esperienze dirette, esperienze dirette che appunto come abbiamo detto favoriranno un apprendimento reale e un apprendimento che il bambino non se lo dimenticherà perché appunto come abbiamo detto quando c'è un'emozione positiva che accompagna l'apprendimento vi è una traccia amnestica importante e quindi il bambino se lo ricorda. Quindi primo consiglio per le nostre mamme e le nonne che ci stanno seguendo portate i bambini all'aperto anche se si raffreddano perché poi purtroppo dobbiamo subire le conseguenze. Brava, lo sapevo e l'avrebbe detto mamme, nonne e papà a portare i figli. O no, Valeria. Senti io ieri pomeriggio ho portato mio figlio in bici. Ah, ottimo, diciamolo, diciamolo. Questa è un'altra importante attività di movimento dinamica quindi portare i bambini in bicicletta con i pattini anche lì si sperimentano tantissimo e soprattutto con l'arrivo delle belle giornate è possibile farlo quotidianamente. Quindi magari riservare quei cinque minuti al giorno per un'attività di movimento dinamica sicuramente aiuta poi il bambino successivamente a riposare meglio. Anche il risveglio successivo mattutino è positivo perché il bambino si ricorda dell'attività che ha fatto la sera precedente e quindi come dire ha fatto bei sogni e si sveglia tra virgolette con un sorriso. Bene, allora Vale noi ci fermiamo facciamo una breve sosta pubblicitaria e poi ritorneremo con un'altra importante caratteristica di questa nostra chiacchierata che stiamo facendo insieme che è il gioco che è una componente altrettanto fondamentale l'abbiamo già diciamo accennata così di traverso ma adesso entreremo un po' più nello specifico quindi restate con noi e poi continueremo la nostra chiacchierata con la dottoressa Valentina Turco. Stiamo parlando di bambini e cambiamenti primaverili. Allora dottoressa Turco hai sottolineato l'importanza del gioco nella vita dei più piccoli. A volte si tende a in qualche modo stressarli con tante attività e non riservare parte della loro giornata al gioco. Quanto è importante il gioco nella vita dei bambini e in ogni fase appunto anche della loro crescita? Sì, allora sicuramente il gioco è il principale canale comunicativo che noi abbiamo per entrare in relazione con i bambini quindi il gioco è l'attività principale dei nostri bambini e invece come hai detto molto spesso i bambini sono incastrati in impegni scolastici ed extrascolastici da lunedì al venerdì e quindi quasi non hanno più il tempo per giocare. E attraverso il gioco, lo dico sempre, si raggiungono tutti gli apprendimenti per i bambini. Quindi si ha un apprendimento a 360 gradi. Si può utilizzare il gioco per apprendere nozioni scolastiche ma si può utilizzare il gioco anche per sviluppare abilità cognitive. Quindi è il principale strumento che noi abbiamo per entrare in relazione con i bambini e sicuramente se un bambino non ci guarda, se un bambino in quel momento è arrabbiato, non vuole parlare con noi e noi gli proponiamo un gioco, probabilmente risponderà alla nostra proposta perché abbiamo proposto a lui un'attività ludica. Quindi siamo scesi al suo livello e come dire abbiamo chiesto di interagire però attraverso un canale di comunicazione che è all'altezza del bambino. Io poi sono psicomotricista funzionale e in psicomotricità noi utilizziamo l'attività ludica, quindi il gioco per, come ho detto, sviluppare abilità cognitive ma sviluppare proprio abilità e funzioni mentali che aiutano poi la persona a vivere un benessere a 360 gradi attraverso il movimento, attraverso abilità specifiche del nostro corpo e attraverso attività di natura dinamica. Anche perché Valentina, e qui ti rubo una citazione, tu hai definito il gioco anche un balsamo rigenerante per coloro i quali si occupano della crescita dei bambini, quindi anche per noi adulti che in qualche maniera ci interfacciamo con loro e quindi il gioco non fa bene solamente ai bambini ma anche a chi in qualche maniera si occupa di loro. Certo, è altrettanto importante per noi adulti giocare con i bambini, è altrettanto importante per le figure, gli educatori ma soprattutto le figure genitoriali interfacciarsi e scendere a livello del nostro bambino e giocare con lui. Infatti molto spesso nella mia pratica professionale quotidiana mi capita di sentire che i bambini non giocano con i propri genitori. Questo è un dispiacere perché il gioco abbiamo detto che è un canale comunicativo importante ma soprattutto permette di entrare in relazione con il bambino e di instaurare un legame di intimità con il bambino, un legame importante, un legame che poi lo caratterizzerà in tutta la sua crescita. Quindi è importante proprio dedicare 5, 10, 15 minuti al giorno per giocare con il nostro bambino, sedersi a terra su un tappetone, scegliere insieme al bambino un gioco, un gioco che segue l'interesse del bambino e non il nostro perché magari abbiamo i nostri impegni quindi preferiamo fare attività al tavolo, no, dobbiamo seguire sempre l'interesse del bambino per 5, 10 minuti al giorno e giocare con lui. Questo sicuramente promuoverà come dire uno sviluppo e un benessere psicofisico a 360 gradi che caratterizzerà la sua crescita, il suo vissuto anche successivamente, quindi nelle ore successive e garantirà come dire un benessere importante. Benessere al bambino ma sicuramente anche ai genitori perché si ritorna piccoli insomma. Si avvicina il periodo potremmo dire più stressante per i bambini, la chiusura dell'anno scolastico, quindi l'ultimo sprint, bisogna dare il meglio in questa fase. Quali consigli ti senti di dare ai genitori per rendere meno stressante questa fase della vita dei più piccoli ma anche dei genitori stessi? Certo, allora sicuramente questo periodo, il periodo che va da settembre fino a giugno è caratterizzato da routine quotidiane, quindi si va a scuola, il pomeriggio si dedica uno spazio ai compiti, successivamente ci sono le attività extrascolastiche e poi la routine serale. Sicuramente cambiare ogni tanto questa routine, soprattutto in questa fase di chiusura è importante, quindi trasformare tra virgolette l'ordinario in straordinario. Quindi magari, non so, con le belle giornate oggi invece di fare i compiti a casa li andiamo a fare al parco, così poi dopo andiamo a giocare direttamente. Oppure, non so, oggi saltiamo per una volta l'attività extrascolastica e facciamo un giro in bici. Quindi cercare di, quando possibile, dare qualcosa di diverso al bambino, così da poter, come dire, rompere la routine e allentare un pochino anche le tensioni, che, vuoi o non vuoi, comunque si sviluppano in questa fase conclusiva, perché i bambini sono chiamati anche a dare delle prestazioni a scuola, quindi a fare verifiche, interrogazioni e sono molto molto stanchi. Quindi a partire da marzo fino a maggio-giugno si percepisce proprio un velo di stanchezza relativo sia al contesto scolastico, ma anche a tutto ciò che riguarda le attività extrascolastiche. Quindi è importante poi con, come dire, la chiusura della scuola dare un sano momento di relax al bambino, quindi staccare le sveglie, garantire un po' di gioco libero che magari durante i mesi antecedenti non sono riusciti a portare avanti e così via. Io direi anche, non so se sei d'accordo Valentina, che troppe volte noi adulti tendiamo a sovraccaricare di responsabilità i nostri figli, cioè viviamo nell'epoca dell'over-performing, quindi c'è del volere sempre di più, ecco, proviamo a sintetizzare così. Non mi veniva l'espressione in italiano. Dunque, in qualche maniera siamo anche noi adulti a sovraccaricare di responsabilità i nostri bambini e produciamo su di loro anche degli stress che troppe volte forse sono gratuiti. Ecco, da questo punto di vista tu quale consiglio ti senti di dare per non essere troppo col fiato sul collo, diciamo così? Allora, l'indicazione che io do sempre ai genitori è far sperimentare ai bambini momenti di noia. Cioè, dobbiamo fare in modo che il nostro bambino si deve annoiare. Solo così si accenderà in lui un'importante lampadina che è quella della creatività e imparerà da solo a, come dire, trasformare la sua piccola realtà in qualcosa di straordinario per lui in quel momento. Quindi la noia è un'alleata della creatività. E se noi riusciamo a, come dire, lasciare al bambino momenti in cui lui non viene invaso da input quali impegni extrascolastici ma anche semplicemente dispositivi elettronici che vengono tanto utilizzati quindi televisore o tablet, giochi magari al pc. Quindi proviamo un attimo a togliere tutta questa fetta di quotidianità e lasciare al bambino la possibilità di stare da solo, giocare da solo e lui troverà attraverso quindi la noia e successivamente una lampadina di creatività la possibilità di sperimentarsi attraverso il gioco simbolico, creare nuove esperienze che sicuramente lo aiuteranno poi nella crescita e nel gestire anche situazioni successive in cui appunto ci troviamo a non avere quest'input sempre a disposizione. Io penso che le nostre nonne oggi, mamme, saranno contente di aver sentito un po' di consigli perché tante volte poi ci si affida, noi qui non è il nostro caso ovviamente, a persone poco esperte che magari danno dei consigli, invece questa volta grazie al tuo supporto Valentina davvero speriamo di aver dato degli input importanti a coloro i quali si occupano dei nostri bambini. Dicevi Paola... No, ma si parlava di dispositivi elettronici, magari potremmo strapparti una promessa, a tornare a trovarci e parlare di questo, al quale penso sia un argomento tablet, smartphone e computer da dedicare proprio uno spazio intero. Possiamo strapparti questa promessa Valentina? Perché no. Grazie, grazie. Bene, allora Valentina, davvero noi ti ringraziamo di cuore per essere stata con noi. Come dicevo, speriamo davvero di aver dato dei consigli utili a coloro i quali si occupano dell'accudire, i bambini, insomma, di coloro i quali hanno a che fare con i bambini in questo periodo che come abbiamo visto è denso di cambiamenti. Provando a riassumere proprio in punti, allora, contatto con il creato, gioco e soprattutto non li stressiamo questi bambini perché altrimenti, insomma, li togliamo il bello della vita, il bello della loro spensieratezza. Grazie, grazie di cuore per essere stata con noi. Grazie a voi per avermi dedicato questo spazio. Bene, allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi proseguiremo sempre seguendo questo filone con un altro ospite parlando di una ricerca molto molto importante. Restate con noi.